ciao da dietro da dietro farò un po' schifo bello che mi mostri zero 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 eh se lo so l'ho appena visto nello shop anche se non ci so ormai infatti sono questi punti che sono pochissimi mi vado in bagno c'è incredibile no non posso fare a nulla vabbè guardo video così in teoria non mi dovrebbe startare non ci so non ci so non ci so no 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 faccio live ma ve l'ho spoilerato in un altro video che avevo un altro account quindi video certo in un altro live questo così scemo dato non si aveva neanche fatto gli scudini dimentico sempre che ho quell'altro tasto ormai e quindi che l'avevo visto però incredibile ragazzi ma su tutti ma va a fanchiurro forse è 19 comunque una cosa che ho notato è la mia incredibile quantità di no ma sti spostazione da dove l'ho presa scusatemi normale ma così ho pazzi siamo pazzi qua va bene che non c'è nessuno in live allora se al resto non c'è neanche il copy dite troppo dipendenti dagli smartphone vabbè la fanchiurro approv 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 il cuore insomma as Grazie a tutti No è Charlie Non Charlie Un cazzo Charlie Si scrive Charlie Non mi interessa un cazzo Se siete scemi Almeno ho parlato bene Non Charlie Charlie vabbè Ma vatevi a fottere Qualcuno mi ha preso questo account Perché ormai Perché le impostazioni erano brutte Comunque sono io Unico Che fa live Senza nessuno che entra Merito un buon applauso Sono io e i streamer Fallito Scemi Ma che succede Non c'ho armi Almeno non lo so Se non c'ho armi So solo che c'è solo una R Volevi? Come lo troppo un po' Un po' Un po' Non c'è solo un po' Non c'è solo un po' Io gioco come se ci fosse una pubblica In pratica C'è incredibile come mi sto abituando un bel posti comandi non ci credo si è sempre a spammare un attimo perché mi mostra un punto esclativo vabbè non si sa comunque forse non si è notato su questa altra schiena e vabbè se mi metto una professoressa così mi dispiace però no 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 schifo 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 se mi metto una schifo schifo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. come? 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 Cosa farebbe? Nisto. E' da chodiamo, se ne chodiamo. Cosa? Se ne chodiamo. Non, non mi se chodiamo. Non mi sembra che ti non mangiamo crocello. Boli ti? E ti se chodi? Non mi sembrava. Non, non mi sembrava. Non mi sembrava. Non mi sembrava. E' da chodiamo. E' da chodiamo. E' da chodiamo, perché mi sembrava? Perché? Perché? E' da chodiamo? Non mi sembrava. Cosa ti cazano? Azi. Perché? Cosa ti è il problema? È normale. Perché è normale? Non può. Cosa è normale? Cosa è normale? Cosa è normale? Cosa è un altro amore. Ah, io ti lo sopite. Cosa, come? Cosa, è un simpatico online, ma è un simpatico in realizzazione. Cosa ti lo scrii? Cosa, che con chi lo sopite? Cosa, tutti lo sopite. Cosa ti lo sopite? Cosa ti riconquei? Cosa ti lo sopite? Cosa ti lo sopite? Cosa ti lo sopite? Cosa ti sono dipaticiano? Ti sono dipaticiano di noi. Cosa ti si se ti ha detto così? Cosa ti si parlava di noi? Beh, ma c'è nessun ampio. Non mi compagano bene. E, ma, tu stai più vecchio in casa, ti non sono iniziari ahí. E, ma, non posso andare a sredita. E due in questo te soblie? Quando sembra, le sape. Vole ve più. Beh, mi avia detto che dopo due settimiti... potrebbe venire anche qualcuno in live almeno qualcuno che dici bm di 10 anni no mi serve solo un spettatore che mi dici anche un insulto mi serva anche un hater va però mi serve una persona in live e ma vaffan chiurlo un giorno potrò farmi da cose in pace no qualcuno io sono atterrato in ritardo mi sa perché questo già aveva le cose leggendarie e epiche sto e te perché ormai non gioco forte vediamo il motivo perché non sai mirare o il pop si usa da vicino scemo è normale ecco un po' incredibile Sì Sì Why Frida è un racista? There are only two black skins There are only white clothes They are only white poles Perfetto. Io sto gioco, io non ci gioco a quanto pare, lo sapete, io non ci gioco, eppure compro i pacchetti, compro per essere più bello in live, che cazzo mi miri che non ho armi, ok sto, un attimo, mi dice che non mi beccheranno, io penso di no, a quanto pare, ok stanno già ammazzando giù di giù di pop, bene, non ho capito, quindi io, ok, infatti io ho fermato in questo posto, ma... io non ci vengo la scemo, ma vaffanchi orlo, ovviamente lo so siamo nelle arene, quindi non possiamo fare, non posso fare steaming, per certuna, questo lo farò solo nelle pubbliche, intanto scrivo, I smell, I don't speak, game, war kit, languace, perché ormai... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Tiro. 5, 6, 7, 8 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Togliarvi, henchman. Vaffanchi urlo, va. Vaffanchi urlo. No, no, mi so bugato. Grazie a tutti. Vaffanchi urlo, va. 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 Sì I would roast you, but my mom said I'm not allowed to burn trash. I would roast you, but my mom said I'm not allowed to burn trash. I would roast you. Come and me. Sayonara, loca, loca, sutrona. Hi, welcome to... That's your name? Daku. That's your name? Okay, yeah. Oh, you want to know why you're here? Oh, yeah, sure, no problem. Well, it actually says here that you know what you did. What did you do? Yeah. Yeah, so does that make sense? Yeah, so you're actually going to be in the same section as people who don't tip and pretty much all of my exes. Okay, yeah, have fun. Come on, welcome to hell. Yes, on the show, Lucy. I don't like this house, not to worry about my exes. I don't like this house anymore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma va a farlo, non è possibile io con una pistolina e sono pure da solo, guarda a te. Vediamo sto count fortnite gay, 1, 2, 1, 3, vabbè, 2, 1, 3. Sì, Joe is dead, però se giochi a questi giochi vuol dire che giochi anche a fortnite, perché c'è un significato. Io gioco tutti i giochi, più o meno. What's Zepeto? Ma vaffanculo, che già fa schifo. Ecco, perfetto, almeno sei bello, sei bello. Friend, what's Zepeto? Let me show you, perfetto. Almeno è bello, perché... Ok, perfetto, premi. Vabbè, anche se hai sento, dove andiamo? Andrei Queen di Granda. Andrei vicino alla consegna di rifornimento e... Ciò che... E sei... Perchè... E sei... E sei... E sei... E sei... E sei... Grazie a tutti. Noo! Noo! Fuck you! And you... Um... Yeah! Noo! 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 I'm 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 Noo! I'm I'm Allora mi sei spuntato da un momento all'altro perché stavo guardando un attimo dato che non veniva nessuno in live Comunque sì, devi solo iscriverti e dirmi il tuo ID Ok, però ti devi anche iscrivere. Sì, ti sei iscrivito, bene. Un attimo che vieni, sto alla schermata di caricamento Che già sono un hub incredibile E lo ammetto Bene, l'ho mandata Mi bastava anche un hater in live Guarda Allora, l'ID è scritto in basso, se mai me la mandi tu Ma Ma Ok, va bene Ma Bruce mi stava aspettando qui Va bene, t'ammazzo Ok, io me ne vado da qui prima che mi ammazzano a me invece Ma No, no, ma dai Ok, adesso mi fa usare il trampino E meno male Va bene Beh, beh, beh Avevo sentito un'altra persona che lo diceva questa cosa Va bene Va bene Va bene Lo conosci un certo Octifi? Lo conosci un certo Octifi? Octifi Octifi Eh, Octifi Octifi Ok, ma lo conosci? Ok Se hai guardato quel video Eh, vabbè Se lo hai guardato quel video Non ricordo neanche Anch'io non lo guardo da tanto tempo Oh Quel video dove C'era Octifi Fai schifo Octi è un falso E tipo diceva Sono entrato in un team molto forte Si chiama RSN E' ancora in safe Si potrei prenderlo Vabbè Se mai quando non c'è nessuno Prendo il tesoro Mi è arrivata Mi è arrivata Io a volte scambio i tasti Prima di tutto Io ti avverto Non andare forte con me Che io sono un nabo Di generazioni bibliche Ti giuro Sono un nabo più Più di te Vediamo Oh Bello 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 No Vaffanchiurlo Vaffanchiurlo Ha visto quanto nabo sono io Ecco Sono così nabo Comunque secondo me Mi stai un po' trollando Però niente Faccio pubblica Si Mi feci pubblica Ho solo amici Perché non voglio Che entrino altre persone Andrò Vabbè Eh 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 Capito Capito Che significa trollando Vabbè A 6 livello 100 Bene Nerdi più di me Su Fortnite Capito Si Bene 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 Vorrei dire malissimo Mi da un leggero brutismo Dico Ma Mi fa male Che lo scrivi così Mi fa abbastanza male Lo so tanto che sei uno forte Dato che sei livello 100 Ora andiamo Ora andiamo Questo è il mio secondo account Si Massimiliano Patti Puoi Puoi giocare Basta che ti scrivi E mi E mi mandi E mi mandi la richiesta Che c'è lì di sotto Sono entrato in una mappa a caso Non entrare Perché una mappa a caso Del manga Comunque ho il purtutol Quindi non mi senti Un attimo Devo sistemare Ok Ok Va bene Lo posso impostare da qua Impostazione Lo metto Purtutto Ciao Va bene Allora Se magari non andassi indietro Bene E comunque lo so che c'è l'hai qualche ballo Perché si livello 100 Vabbè facciamo un gang E' un dato che Non trovo map Un attimo Un attimo Eh eh Lo sapevo che Qualche Eh 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 Eri quello che parlo Lo so che c'è Comunque so io Il mio ID là sotto E mica Devo sempre io Mandarle richieste Qua Incredibile Oh Che qua io mi arrabbio Perché c'è scritto Grande come Incredibile Me la mandi te Eh Tutti a posto Allora Allora vatti Sistemare lo schermo Perché C'è scritto Grande come Una fotonica Quello Che c'è anche Scontornato Con il verde Sotto la barra Degli XP Guardate Vabbè Ormai Se n'è andato Grande Guarda che Devo più Resistemare I problemi Delle persone Vabbè Si è passato La prima Seconda Incredibile No 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 È Basta È Impossibile È Impossibile Massimiliano Ha detto È Impossibile Come Ha fatto Incredibile È 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 Si crocia Pure Croucha Pure Guarda Io ho scelto una mappa Senza Senza Build Se no Mi spaccavi come un polaretto, rullo di tamburi, salve, io sono nudo, ci credo, ci credo, ci credo, ma da dove spari, ah eccoci, salve, di nuovo rullo di tamburi, ah io non so, e vabbè, non so mirare io, comunque ho appena sbucciato la mafia tastiera, quindi sono un po' nabo, dimmi a me che io con questi comandi non ci ho giocato da un botto di tempo, oh no, la sensibilità della mira è così, ma... uh... te l'ho detto che sono l'abo sull'apistolata a muro che da play è la cosa più forte del gioco oh no l'ago oh mio dio l'ago più di mio nonno e tua nonna quanto lagga? ehm non lo so c'è un cecchino vai via un ballo bello vediamo un ballo bello oh sto mangiando la pizza non scopre non scopre vai via mi hai picconato sì sì questa cosa forse non la dovevi fare lo so è una regola del mio canale lo sai quella regola ti dice se lo fai sei morto instant però io con un cacchio di cecchino che cacchio posso fare c'ho quattro di vita e non posso fare un cacchio adesso se anche tu hai il cecchino contento? in realtà la pistola tambura eh vabbè io quanto ero avanti allora lo sai che la pistola tambura è forte da vicino? lo so ma non voglio avvicinarmi e se ti camperi la mica mi puoi fare qualcosa perché tu ti stai camperando palesemente incredibile incredibile forse a fare uno scope non ve via che ho tre di vita non scopo con tre di vita no attenzione non ci muore lo so tanto che ci muoio adesso però ma vabbè leggo più di mio nonno è ovvio allora io una cosa che odio delle persone che vengono in live non vedo il tuo ID allora come? ma se sta in basso? se sta in basso io gli dico sta in basso non lo vedo se vai nell'ultimo commento non lo vedo ma fra guarda fai così magari non lo vedono perché non si vedono vedere lettere magari metti tipo un colore più scuro e non si può in pratica ma come non si può cioè io non ho una playstation però comunque però io l'ho posto tolke quindi? non so come ho fatto a killarti non so come ho fatto a killarti hai la pistola a tamburo eh sai e tu hai lo scar e sai la pistola a tamburo è più forte secondo me come regola tu hai un cerchino quindi ci muori come? 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 ci ho detto che sono un nabo allora se un'arma spamona è normale sta cosa io invece ho 143 adesso 30 di ping la mia connessione è buona anche perché sto facendo anche una live non è che mi laghi più di tanto eh avevo un pompa che vuoi ti dico se ti avvicini sei morto perché ho la minigun tutto è colpa di Jerry Scotti sempre lui ma è la mia immagine di discord Jerry Scotti quindi significa che è colpa sua perché eh davvero però non è possibile si che è possibile comunque non mi aspettavo che Jonesi quello costava così poco vabbè io mi sono suicidato a quanto pare e non ti ho fatto prendere l'arma nuova attenzione un'ora di live solo che sei venuto solo tu attenzione aspetta forse forse non lago più ok non lago più eh niente ho parlato adesso sono morto ho un'arma schifosa te lo dico eh per me fa schifo c'ho un cecchino adesso intanto non dare vittoria perché sei ancora lo scar lo so lo so lo so lo so quanta vita hai? 5 beh 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 100 ci ho fatto quindi 100 quindi ti ho fatto 0 in pratica incredi- beh 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 però c'ho un altro cecchino te lo dico avevi 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 prima avevi proprio 100 di vita eh ma un botto qua dopo dopo dai però ho la mitragli... la mitragliatrice leggera immagina... immaginati come sarà quella pesante che poi che poi tanto leggera non è e immagina come sarà quella pesante poi beh beh la doppietta si deve usare molto da vicino mi dispiace è solo perché l'ango altrimenti sarei già non so non so dove però sarei più avanti di te cosa? io ti ho visto letteralmente fare il 360 ehm puoi spararmi ha fatto un 360 360 360 360 360 360 360 360 no no è proprio 1000 ho sette di vita che poi io sto anche in una posizione scomoda con le dita perché io ho un tasto per un tasto per andare a qualche tasto per abbassarmi e saltare io ce l'ho e io ce l'ho tipo secondo me la cosa più comoda è il controller anche perché c'è tutti i tasti vicini ma ci vinco io qua mica un altro cecchino signori un altro cecchino che ho un altro cecchino ma io ho detto ma cosa spari che non mi vedi non mi vedi e però io no io riavo io riavo fornete poi i miei viti di nuovo perché non ce la faccio così e l'abbiamo un attimo fortnite ok poi i miei viti si infatti io non so che fare boh fai un po' di 90's che ne so fai un po' di 90's ma ti dico che non so fare neanche i 90's ma cosa aspetta fratti metto io una mappa bellissima da quanto sono nabo non so neanche fare i 90's aspetta 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 ecco qui ho messo una mappa bellissima vedrò se è quella che fa crashare no 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 tranquillo non può crashare o forse sì no sono entrato subito vabbè vabbè l'hai visto? eh sì però se crashare ah adesso vado a dare a via le corne vediamo io faccio impossible course io 5 impossible e vabbè ma chi è questa cosa eh ho capito faccio uno perchè impossible è un po' difficile vabbè l'ho preso in ogni caso l'ho preso oh perfetto vaffan chiudo vabbè Vedi quanto sono scarso? Allora, vuoi sapere da quanto gioco, da ogni account, anche quello non mio perché dato che la play l'ho avuto quando c'era la season 7 o quando ho fatto questo account? In generale season 4 Oh ma, oh, perfetto Vabbè io ho il silver No, c'è il bronzo C'è il bronzo E anche a me, guardate, io lo faccio al contrario E poi dicevi che eri Nabbo, guarda te Io mi impappino E poi il mio allenatore, poi, cioè, ancora non mi allena più, cioè Allenatore del cacchio Asta che allenatore del cacchio, perché sì Il mio allenatore, non ti sento comunque Il mio allenatore non mi allena più, incredibile Allora ti faccio vedere come la faccio veloce la mappa No, perché non ce lo voglio Vabbè ti dico che il mio record è di 14 e 19 se non sbaglio Quindi Sopra il gold Comunque dopo facciamo box fight Ok, ma io sono quella persona che non ama tanto fightare Ah, ok, tranquillo E allora, boh, facciamo tipo Nascondino In due è brutto Vero Intanto io sto facendo due Voglio vedere in quanto tempo riuscirò a farlo Perfetto Perfetto Intanto salgo Vabbè intanto faccio anche una mappa di edit Faccio la stessa che stai facendo te Perfetto Sì Ok Sì 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 Allora A volte mi hanno messo una mappa che fa crashare e a volte sono riuscito a scapparmene Vediamo, io non ho fatto neanche il bronzo, perfetto, perfetto Vabbè, quella cosa che si fa crashare è quella di box fight, bug, roba Sì, oppure la mongral modificata Cioè, io se faccio Fortnite mi arrivano la gente, io se faccio il vecchio e lo neighbor non mi arriva nessuno Incredibile, nessuno pensa ai tempi dove c'era lo neighbor, incredibile Uh, 4.10 Comunque io non so neanche cos'è lo neighbor Cioè, ne ho sentito parlare Comunque mtc rack, poi io sono un hub quindi non mi farse proposte Incredibile Perché io sono un hub di menzione biblica Ah, sbaglio Perché non mi edita a volte? Aspetta che ti spetto Così io vedo come... Eh, stai cercando qualcuno? Vabbè Però a me... Vabbè io... E fra, dovresti costruirmi la scala, sai? Dovresti fare la scala? No Io faccio in un modo diverso Invece... E va bene Perché non mi edita subito? In che senso? Devi tipo tenere premuto? Eh, sì Guarda Fra, se vuoi ti mostro un trucco per evitare senza tenere premuto Guarda qua, va nelle impostazioni Un attimo Un attimo A me mi hanno fatto una proposta di team, guarda Sì, però devi fare 21 kg e devi essere pro Eh, io sono un hub Che cacchio vuoi? Già sono in un team Comunque Incredibile Io sono negli RSN Let's go Ma non è che ti chiami Davide? Eh, forse Forse No, comunque no No, mi chiama Davide No, dico dal meme Che ormai quello è diventato un meme Ma E l'ho capito dopo tre anni Che dovevo far così Comunque Fra Ma No Ti sei dimenticato di saltarci prima Comunque Fra Va nelle impostazioni Gim E poi vai sul controller, no? Sì Tu con cosa editi? Con Con R R? Sì, con R Non è che devo No, no R In pratica Devi cliccare un tasto Ah, eh, ecco L No, è L Sì, ecco Tu Come impostazione Probabilmente hai tipo Cambia modalità Modifica Tu devi mettere Dove c'è scritto Solo modifica No, è in pratica Una cosa diversa Perché appena clicco È tipo Strano Perché a volte mi edita anche quello precedente Ma che Vabbè E che Cucco Mica È tipo Mi edita Ecco Così Mi edita il controllo Non mi edita la cosa che voglio editare Beh, da pc è così È destra semplice Cioè basta che premi un tasto Tipo la E Lo premi Tac Editi È led Volevo editare Ma Dove Capito Aspetta Torno subito Torno subito Ok Sto cercando di editare Anche se non so editare Ecco cosa sto facendo Eh, si può giocare Basta che ti iscrivi Eh, attiva la canale Ciao No Non faccio 1v1 Perché sono un nabbo Comunque non faccio 1v1 Gioco solo perché Sono un nabbo E Non ha senso Io gioco tanto per giocare Ok, eccomi Comunque il mio D c'è scritto sotto Quindi Potete anche mandarmela Eh Comunque Aspetta che le Che le lo scrivi in chat Magissimo Allenarti Ma io sono un nabbo Se Se vuoi Se vuoi Allenarti con qualcuno forte Non sono la persona che è io Aspetta ma con la G finale Sì, sì Ok, ok Se no il nome è In pratica L'ID è quello Vai ragazzi Ci sono Zio Big Cucco Sì Sì Ciao comunque però dopo cosa facciamo ci facciamo il nascondino box fight non lo so ma io direi andiamo no mi dimentico sempre ecce macchina no, ex machina è la mappa, facciamo noi, facciamo noi adesso ok, ottimo se non mi sbaglio questa è quella che non fa crescere, ho tutte quelle che mi fanno crescere perché sono tutte entrate in quelle ok, sono entrate eh certo, ti vedo eh sì, anch'io sono dentro, ne ho cresciuto anch'io secondo me questo qua ci ara, palesemente questo qua ci ara oh no, dimenticavo che ho questi comandi no, 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 mi dispiace delle impostazioni e tutto per fare le live ok, ma mi sbaglio le ha cambiate ma non vuol dire che non l'ho comprata ma guardate guarda che hai visto gli edit che facevo, vero? e sono un abbo per quello mi chiedete, però sono un abbo non so editare, prima cosa adesso scommetto che mi pusciate tutti e due io non ti puscio, tranne se non sei questo no, sto sicuro che non sei questo perché ha fatto troppi tunnel e vabbè, l'ho detto che ci faceva il cucchio ma 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 scusa, ma perché sono in un'altra mappa? ma bella sta mappa sono tipo nel gulag beh 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 e qua tipo è capito aspetta, 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 aspetta no, 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 aspetta qua c'è il gulag c'è il gulag bella sta mappa, non me la ricordavo stai ridendo troppo eh, stai ridendo troppo perché non lo so dire, vero? no, stai ridendo troppo per il fatto che hai detto un chiede no, grazie no, io ho un'altra ma la scita guarda, guarda lo chiusa un attimo guardati, guardati chiusi pur eh io sono nel gulag per quanto sei gulag questa mappa si deve essere in più persone perché c'è pure il gulag nel frattempo che stanno combattendo combattete ecco qua per quanto sei gulag ma così tanto facciamolo morì ah, però ma sto qui è troppo forte l'ho detto che è troppo forte comunque prima ti stavo ti stavi flexando gli editi ti ho visto bello bello sono vicino a te bello 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 e vabbè 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 da dietro grazie allora criminale nooo comunque dai piango piangi però è la mia prima vittoria guarda potevo vincerla e potevo vincerla chat partita no grazie perché non potremmo però io sono uno che non va mai in chat partita chissà perché però vabbè ho un trauma del chat partita quindi no grazie ho il conto del vlog sono nel gulag attenzione è niente mamma allora quanto è bello il gulag dubbi dubbi sulle riaperture delle scuole ragazzi abbiamo un giornalista dubbi sulle aperture delle scuole c'è bello un giornalista qua uno nella mia chat mi ha scritto dubbi se è capito che bello forse non andiamo scuole non sei quanto però mia sorella non è cato se è proprio scarso è 220 mi hai fatto è 200 era Titanic a napoli riapri il 24 ok ma abbiamo il il giornalista scusami flay ma sei un giornalista per capire per capire perché io a me non me ne non me ne frega un cacchio di questa cosa lo sai io non ho fatto ancora una kill sai però io vado in chat partita ok vai in chat partita tanto in questa mappa non si può andare in chat partita rovandiamo ci va un cacchio tanto lì ha detto che ha le cuffie rotte quindi non so perché quanta rincia è partita comunque chi sta guardando la live forse era flame però adesso welcome to the gulag if you survive you're ready to escape si che vado su la gulag yeah allora io sono nel gulag più grande di america perché in america a cosa c'entra l'america non lo so però so solo che sto recuperando slow di punti quindi con questa mappa fa schifo è da dire ma che c'è il gulag qua il gulag non so come si chiama cioè è incredibile non so come si pronuncia buona che si pronuncia lo pronuncio bene sono un hub posso giocare con questi due comandi cioè vabbè c'hai due parti di miglio ma sto quasi flexa gli edit come se fosse niente basta flexarti gli edit ma va vaffanculo basta flexarti gli edit ma va questa frase è presa da uno youtuber molto famoso vediamo se lo conosci non da me da da una persona molto conosciuta come file scrap mechanic chi sarebbe? eh telone il buccio del churro shit where we go again oh shit 2 di vita io c'ho 2 di vita perchè questo mi usarà la R ci 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 ma io lo butto pure sto R intanto che non lo uso mai perchè io non sono una persona che spama incredibile comunque se viene un'altra persona potremmo provare il gulag come funziona ehi ci sei? mi sa che nel gulag non mi sentono si ti sento perchè io qua mi sto preoccupando che non posso provare il gulag comunque dai allora consigliami consigliami una roba consigliami un gioco a un euro autoblue sulla play non lo so io non gioco alla play cioè ho la playstation 3 ma vabbè non dettagli io c'ho la play 4 ormai oh no scherzavo c'ho la play 5 ma sai quanto è bella la play 5 incredibile sì sono nel gulag ah no sono io nel gulag un attimo invito un mio amico voglio vedere se entra non mi sparare se slowy mi spara lo ammacchio di botte allora e mi sa che offline si è offline ma chi è che mi ha costruito sopra sono nel gulag no ma mi dovevi proteggere da questo infame guardalo incredible ammazzami 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 edita quel cacchio editalu editalu bene no così oh perfetto e mamma mia e mamma ma come sconfitta non ho perso sono comunque secondo io sono più forte proprio ma voglio più farlo di tutto eh sì tu sei morto primo bello che hai abbandonato è bello ok gg eh vabbè ormai sei sei più forte sei più forte che si può fare eh vabbè però gli hai pure stilato la kill guardate welcome to the gulag if you're ready die if you're not ready escape come già il zaino pieno incredibile adesso c'è lui il zaino pieno in teoria dai gentaglia di di brutti cocchi allora io vado su hello neighbor nessuno viene io vado su hello neighbor nessuno viene io vado su gangbis nessuno viene io vado su fortnite dai arriviamo che cacchio e che cocchio cioè il gioco più bello del mondo io qua non conosco le persone sono incredibili ormai ci sono solo fortnite kid ma un attimo un attimo non mi sparare se sei tu non mi sparare se sei tu sei tu l'altro abbandonato quindi l'altro abbandonato vabbè andiamo siamo in due ma intanto welcome to the gulag if you win you can escape siamo in due che bello che bello essere in due vero bellissimo no 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 scope 360 ritorni nel nel chat vocale gruppo non mi ammazzare ti ho detto vai nel canale vocale del gruppo perfetto 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 e adesso non mi ammazzare vai via cocchio e che cocchio e che cocchio e che cocchio se ti fa il pesce te lo sei sprecato lo sai è vero perché tanto non ti serviva welcome to the gulag non mi sono curato per niente non mi sono fatto né il pesce né i cildini ma dai serio allora facciamo un fight libero no box ok no box solo un fight libero e vabbè shoot mi cerchi di chilare così questo è indegno chi è valore pipi non lo so io ho un sacco di amici di epic quindi capito perché no i love robot non si può vedere non hai capito cosa ha detto in chat palle mosce incredible parabem e vabbè ma ma chi ha parlato sento qualcuno sento qualcuno in casa mia mamma mia mi sa che ci sono i fantasmi incredible o fra senza pompa solo ar faccio allora io faccio senza ar invece perché io tanto non ho uso la r mi curo mi curo mi curo io io adesso faccio senza pompa vediamo chi vince e te fai senza r ok te fai senza r io faccio senza pompa io senza pompa non ci riesco a giocare sento ti fai oh ma salve cos'era quest'urlo eronia un attimo devo levare qualcuno del gruppo nessuno dai deve entrare solo qualcun altro per provare il gulag che qua incredibile c'è animal crossing non è il gulag si ammazza i pesci ti senti uno scoop va va aiea che male va beh adesso entrano tutti ciao mi avete invitato voi forse qualcun altro ti ha invitato io non ho invitato anche io spd mi ha invitato e poi io ho messo solo amici qua eh c'è qualcosa di strano e io solo dalla season 4 io ho un altro ieri ma perché mi hai provato a piccolare scusami ho fatto due duecento di fila che poi non ho provato a piccolarti ho provato a spaccare il muro poi t'ho visto ho provato a prendere la pompa e non me l'ha presa allora io ho l'unica skin bella da sto account è questa incredibile perché l'altra mia skin perché c'è solo due skin prima ne avevo solo una incredibile ma io non ho penso a te il professore il pacchetto ps plus della season vaffanchi urlo e che cocchio adesso ti ammiazzo non mi interessa vaffanchi urlo e che cocchio ah non pensavo che eri te eh un attimo devo ammazzare qualche persona qua guardalo come si è scelta è scelta è scelta lo dobbiamo chiedere è scelta no no si è scelta ah dai ma tipo un invito a quel di che persona eh vediamo no ancora non è online oh si quello del mio vecchio team no no non mi ricordo chi cacchio non parlare in realtà voce se no t'ammazzo eh no 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 cosa hai detto no 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 brava dai eh 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 muori che cocchio eh vabbè guardalo direi che mi arrivano da tutte le parti andate via entrambi ok allora push la ghoul la ghoul noto g no vai via vai via vai via ma quanti danni mi fai si ma quanti danni mi fai welcome to the gulag comunque fagli morire a lui così vede il gulag welcome to the gulag forse sei morto te mi sa non so perchè ho colpa e sentimento si sei morto te non ho colpa e sentimento ma i bull anche i pelari allora facciamo una sfida non non bulliamo eh vabbè già avete bulldato anch'io bulldo va mazzo shet 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 ecco devo uscire pesce palla rosa un attimo pesce palla rosa perfetto pesce palla rosa vai via vai via vai via sei quasi morto vai via no vaffanchi ah io non ho bulldato io non ho bulldato eh certo che cochi lui ha iniziato a bulldare lo dovevo chiedare in qualche modo no eh anche tu hai iniziato a bulldare comunque io non bulldo qua e io non bulldo se lui bulldo io non bulldo io non bulldo e lui ha già bulldato e vabbè se se tu hai già bulldato anch'io bulldo ah guido 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 sei mai fai E intanto che stai facendo al gulag? Guarda la stacqua che ti deve truccare ogni giorno Oh ma non vuoi neanche fuori vai, neanche fuori Stai a casa Ha parlato chi? Io non posso andare fuori a differenza tua Si che vuoi Nene che posso Si puoi e come Che ti ha detto che posso, scusatemi Mi sono detto che l'ha vietato Eh si me l'ha vietato il dottore, scema Te l'ha detto per una settimana, una settimana passata No, non mi ha detto per una settimana, scema se hai sentito bene Ah si, tu non c'eri E per quanto? Due settimane Dottore, io mettei a bulimeci Bulime? Super mal Ah, la cuzione fa un po' vece Ti vedo il dottore, non mi hanno usato il dottore Dai che non l'ha determinato il dottore Dai che non l'ha determinato il dottore Ma sei zitto Ma adesso E l'ho in capito No Io non l'ho bugliato eh Mi stai facendo la vera Beh io vado, ciao Ciao Ma no Vabbè, non li faccio vedere Prima rosa solo contro la guld Bene, bene, bene Ah, adesso la pagina Non so Non so A chi A te A facendo le borde No, adesso Mi ha detto Vediamo Ma dai Beh io chiudo la live Incredible Chiudo la live mantra Grazie 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 a tutti.